Ciao a tutti, sono Isaac e siamo qui su Metro 2033 Per continuare a trovare il tizio che non ha nome Che non so dove si trova Tra l'altro questi suoni sembrano tanto quelli della tuta di Half-Life 2 Tanto per dire Andiamo su quel tubo velocemente Ah, ah, non devo fare... ok, ok Non devo fare nulla di stupido Dove devo andare? Devo saltare su quel tubo? E andare dall'altra parte? No! Ok, dove devo andare? Q, curati Andiamo A proposito, il filtro, il filtro, stupido anch'io Il filtro... a che punto è il filtro? Ti, fa vedere? Fa vedere, diamine Ok Sembra essere ancora a posto, ancora due minuti Ah, da questa parte dobbiamo andare Uh Oddio, è uno degli Assassin's Creed Uno dei protagonisti di Assassin's Creed Non mi ricordo neanche Mamma mia, sentite Inizia a soffocare quando non cambia il filtro Oddio Troppo bello Eh, solo così cambia il filtro, merda Allora abbiamo poco tempo Vediamo Sono bloccato qui Cosa dovrei fare? Andare da quella parte prima Proviamo ad andare da quella parte Usciamo da questa parte Ok Eh, scale? No Ok Adesso dobbiamo raggiungere il tizio Abbiamo fatto un giro Enorme Solo per Trovare Dove sei? Ehi Devo andare di là Un altro morto? Allora E il filtro? Non può Vabbè, prendiamo la roba e basta Le maschere sono utili ogni tanto Cambiare maschera magari Non so Una diventa Troppo Sporca Ehi Lo devo uccidere? Ma sì, massacriamolo No 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 Dove vai? Lasciamo stare I proiettili li mangia colazione Secondo me quel tizio Allora Qui cosa c'è? Ah, stava mangiando un tizio Andiamo avanti Allora No, un altro? Ah, se l'ha portato via È giusto, eh Pareva è giusto Ah no, non se l'ha portato via Ok Ci ha dato un altro morso Punto Andiamo sulla macchina Ok Ehi Lo so che si fa Oh Merda Spreghiamoci Dove dobbiamo andare? Sì, lo so che stai sparando Potresti ora Dire dove devo andare? Non mi capisco Io Wah, 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 wah Wah, 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 wah Wah, wah, wah Curati, curati Lol Fa vedere il filtro Buono, buono Forse devo andare da quella parte No, no, non devo andare da quella parte Ok, sono un equilibrista Sto facendo l'equilibrio su una barca Cioè, lui fa i giri Si diverte così ogni giorno Va giù, su E così passa il tempo, no? Andiamo di qua No, non posso andare di qua Via Uh, cos'è quello? 3H Pro 6 Ne H 6 Ne Un pro 3 No E adesso spara di là Prima era di là Poi va di là Come fa a teletrasportarsi? Allora Tanto qua sta piangendo al mio Mmm Ehm Pa, 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 pa Dove devo andare? Di qua Proviamo ad andare di qua No, non possiamo andare di qua Andiamo qua Su questo pezzetto di terra No, non funziona Non funziona Torniamo in altro Torniamo in altro Ok Dove devo andare, diamine Ok, abbiamo provato di là Di là non funziona Di là Forse minco Lì vedo una roccia Quindi potrebbe essere utile Andiamo di là Ehm Di qua invece Niente A posto? Sei a posto con la vita? Fa vedere il filtro? Sì dai, è ancora buono Andiamo Eh 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 Sì Ci siamo Senti, guarda Si impazzisce Aiuto Ehm Quindi da qui cosa facciamo? Devo andare Lì Carichiamo la torcia Che non funziona più Diamo Olla Ehm No, non devo andare di là Ok Dammi un'arma Cambio il filtro Ah ma ce ne sono due Di là no E qua spara Dove dobbiamo Dove dobbiamo andare Ehm Di qua no Proviamo di qua No niente 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 Rimani qua Secondo me non dobbiamo neanche stare qui Torniamo alla macchina Che mi sembra il luogo più naturale Su quest'area Quello lì Continua a fare i giri Ma Cosa vuol dire Questo? Adesso provo a superare la macchina E andare dall'altra parte No Non mi conviene Mmm O mi sono intrappolato Non lo so Vediamo Andiamo di qua Ah Li vedo Li vedo Un'entrata Ok No Non è questa 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 Non mi capisco Non è questa Ok Siamo tornati Siamo tornati di qua Ma Quindi qui Cosa ci facciamo? Adesso lì c'è il monstro Che non posso sparargli Ovviamente E quindi da qui? Da qui c'è un morto vivente Oh ma sono tutti uguali Scusa Ok Ok Appunto Sono tutti uguali Lasciamo stare Allora Da qui Non ve Ah Oh merda Cavolo Dove vai? No Adesso ti uccido Ehi Dove vai? Fermati Fermati Ok È scappato Mori Ok Ok Non vuole morire Sarà indistrutto Ah ma devo andare di qua Ma 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 Quanto sono stupido LOL Ok Abbiamo perso mezz'ora qui Tanto qui Sta impazzendo di nuovo Cambiamo ancora filtro Eh Qua è esploso qualcosa Ma non so Ma si dai esplode tutto Anche se È una città morta Cambiamo livello Perfetto Doll Città morta Beh lo sapevo Scusa Però esplodono le cose Ovviamente In una città morta Cosa vuoi che succeda? Ah Senza I caricamenti Sono stra veloci Però Ok Siamo entrati Da un buco Qui c'è un morto Devo cambiare armadia Ah ancora Acqua maledetta Ok L'acqua È uno dei pericoli Uno dei maggiori pericoli Nei giochi Cioè Non importa che sia acqua O acqua O acqua L'importante È non toccarla Sagge parole No Non devo andare di qua Devo andare di qua Oh Eccoti qua Come ti chiami? Come ti chiami? Ehi Sono qui Come ti chiami? Mi hai davvero spaventato Non mi ricordo Come si chiama No Guarda Ti stavo per sparare Ben fatto Ok Ci siamo quasi Ancora un cortile sulla sinistra Un cortile sulla sinistra Questo cortile Lì non c'è niente C'è un montacare E qui Oh Finalmente si va In strada Però qui vedo una rampa Cosa ci sarà qui? Ah no C'è una Discesa Ma non so se ci No Non ci porta da nessuna parte Andiamo Insieme al tizio In strada Controlliamo il filtro Come faccio a capire Quanti filtri mancano? Non credo che ne manchino 15 Stop Ecco lo stronzo Dove? Dove? Dove lo vedi? Ah lì Lo ammazziamo? Lo ammazziamo? Lo ammazziamo? Ok no Ok Allora Qui c'è qualche nemico Mi sa Si lo so Lo so Parlare con i modi Ehi Vieni con me Sì sì Non sono sordo Perché? Io sono andato avanti Eh? Vabbè Almeno ho un po' Cavita credo Chissà se li posso fare Headshot a questi tizi Non mangiare la neve La neve gialla Che cavolo Questo qua spara Cavolate Su cavolate Ok Non c'è nessun altro? Volete assaggiare i proiettili Della metro? A quanto pare sì Mori 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 Ah Finito Aiuto 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 Ok Quanto sei alto? Per essere I toooopi Troppo cresciuti Ho finito i colpi Per essere I toooopi Troppo cresciuti Sono veramente Troppo cresciuti Ma quanti c'è Oh no arriva il demone Andiamo 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 Ehi palo Via Via Oh che saldo No non morirmi eh Bravo Ok Ci siamo buttati nel vuoto Canna Chi è Canna? Gengis Canna Pensai che la mia città Era diventata un luogo sconosciuto e ostile Qui Protetto dalle tenebre della metropolitana Mi sentivo al sicuro Soprattutto quando Barbon disse Di avere degli amici alla stazione arida Ah quindi siamo arrivati Ah questa dovrebbe essere mosca Il cerchio qua Non so se No non si riesce a vedere Il cerchio è la mosca se non sbaglio Ascolta attentamente Questa stazione è controllata dai banditi Dobbiamo muoverci in silenzio e dare un'occhiata Se non vediamo i miei amici Ce ne andiamo di corsa Oh un topo Che non è troppo cresciuto per fortuna Però qui c'è dalla merda Troppo cresciuta Mi sa Che sia pericolosa Ricordo questa grata E ora Di qua Uh cos'è quel posto? Perché c'è la luce? Merda non ci passo Ok Tu resta qui Eh? Devo rimanere a guardare? Ok Vediamo l'assassino No Ok F Oh no Meglio di no Guarda guarda chi abbiamo qui Barbon il trafficante Trafficosa? Senti chi parla Portami dal tuo capo Ho degli affari da sbrigare con lui Chi è? Canna? Certo Si va dal capo Dove altro vorresti andare? Che brutta fine È partito per primo Altrimenti dovremo trascinarcelo Avanti Finiremo più tardi Avanti Ma c'aveva le armi scusa Ah beh è vero Vediamo se si sta dimenticando qualcosa Non vedo la sua roba Già Uh Vuol dire che avrò il Il suo Uh il suo zaino personale abbiamo Perfetto Cosa abbiamo nello zaino? Cosa? Ci sono solo troppi Ok allora andiamo Wow ci stavano per scoprire anche Chissà perché Ok Cosa abbiamo preso con il suo Zaino? Uh una cappa Una cappa Che non possiamo sostituire Alla bastarda Perfetto Siamo pregati Non vedo niente Ecco qua Allora Ah ecco il suo zaino Ma scusa Fino a un minuto fa non aveva Eh non posso prendere Ah giusto eccolo qua Prendiamo il suo fucile ultra pro Un colpo solo? Ah due colpi Eh caricane quante ne vuoi scusate Oh la Bra E Possiamo sostituire la cappa al bastardo Perfetto Cambio d'armi improvvisato Oh la Finalmente qualcosa di meglio Posso Vabbè spingendo Ok sembra una missione stealth Stilt Come dice Bruiz Adoro quando mi vedono Ma non mi vedono Coltello sembra l'arma migliore Non girarti Non girarti Non girarti Non girarti What? What? Non 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 uccidere un colpo La coltellata Neanche da dietro Ok questo gioco Non è nato per essere Un stilt Stilt O stilt Come dice Bruiz Un topo? Ok Lasciamo stare dai Meglio entrare Sparare E uscire Anzi Più che altro Entrare Chiudere Spegnere No spegnere Finire qui da parte E uscire Sì dai Entriamo Un attimo Oh gli ho spaccato Il cranio Voglio vedere Se non è morto Ok Noi ci vediamo Alla prossima Ciao Come hanno fatto a capire Che sono qui Via 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 Ciao Ciao Aiuto Proviamo sto AK Avanti Anche questo fa un sacco di luce Vabbè Ciao Aspetta Finisco sta sparatoria È meglio Ma che cos'è un mitraglione Quello che hanno lì Dai 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 Ah posso dare una calciata con l'arma Però dove sono le granate Con 5 Granata Sì Grande granata No Non li ho uccisi Granata inutile Oh merda Togliamoci sta camera gas Via Togliti la camera Togliti la maschera Si può respirare no? Sì Dove sei? Eccoti là Non è morto Eh Eh Possibile che tutti i mitra Facciano cagare qui O sono semplicemente Difficili da usare Vabbè dai Noi ci vediamo alla prossima Ottimo posto per sparare Ciao E alla prossima Grazie a tutti.